Grazie al dissenso della Columbia Pictures e allo sforzo produttivo della Rock Film. Riciclaggio opere cinematografiche, Riccardo Pangallo e Antonio Bertoli presentano Effetto Pangrao, il film che attraversa tutte le epoche. Riccardo gli antisismici l'avete fatto. Deve durare. Dura, dura. Effetto Pangrao, l'unico film che attraverso un quadro maledetto, il Pangrao, svela il mistero del potere distruttivo dell'uomo. Ok, ma il computer dice un gioco. Controllo terminali. Terminali a posto. Un gioco. Ma sono allo stadio. Che stadio? A uno stadio primitivo. Effetto Pangrao, uno sguardo impietoso sulle mostruosità dell'uomo, ingegneria genetica compresa. Com'è ben utile, non mi tenga sulle spine. Realizzazione professionale, rapinatore. Cosa? Ma come rapinatore? Si era detto politico. Ma, mani in alto, stronzi. Sarà meglio farla arrestare subito. Sen culo. Effetto Pangrao. Guarda, dagli spazi stellari qualcuno sta osservando i terrestri. Dio buono. Sti terrestri, non se ne salva nemmeno uno. No, non esageriamo. Io poi sono il protagonista del film e mi vuoi aver salvato. Oh, oh. Oh, caputana. Effetto Pangrao. Il film.